Ciao a tutti, buonasera. Io non volevo annoiarvi anche ad agosto, ma mi sembrava doveroso aggiornarvi semplicemente su un paio di cose, ma prima di tutto vi volevo con molta sincerità ricordare che in questo Paese tra poche settimane saremo chiamati alle urne per un referendum confermativo della modifica che il Parlamento ha approvato per il taglio del numero dei parlamentari, una riforma che è stata votata con quattro letture che evidentemente non ha appassionato il Paese fino ad ora dove sto leggendo posizionamenti di autorevoli, esponenti di giornali che ritengono che andiamo a tagliare la democrazia, che facciamo un danno, siamo dei populisti, quando si sta facendo una scelta di un taglio mirato, poteva essere fatta meglio, c'è sempre chi ha la soluzione migliore, ma visto che è stata votata anche in ultima lettura da una larghissima maggioranza, perché noi come 5 Stelle abbiamo convinto anche i vecchi partiti a votarla, evidentemente è una scelta che può portare un po' di fiducia magari di nuovo da parte dei cittadini nelle istituzioni a maggior ragione in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ci aspetteranno mesi complicati e quindi credo che dare questo segnale di conferma, una scelta portata avanti dal Parlamento sia una scelta corretta e aggiungo anche il fatto che anche il Presidente Merito Onida ha confermato, che non mi sembra né un grillino né una persona non competente nel merito, ha confermato che si tratta di una scelta condivisibile dove lui in sostanza voterà sì, che porta anche una consultazione in maniera corretta, non si fa una mega riforma alla Renzi costituzionale, ma si fanno delle modifiche mirate per portare dei correttivi alla Costituzione e sono convinto che sia necessario farlo anche su altri punti, non dimentichiamoci per esempio a partire dal vincolo di mandato che per fare queste modifiche serve una larga maggioranza nel Parlamento e vorrei ricordare anche a tutti che noi, quelli incapaci, quelli brutti, quelli che sono colpevoli di tutti i mali del mondo e di questo Paese, sono al governo da quasi due anni, no da più di due anni con forze politiche diverse e vorrei ricordare a tutti e questo lo farò anche magari nelle prossime settimane quando voglio fare e condividere con voi un ragionamento sulla situazione del Movimento, noi abbiamo portato sia la Lega che il PD a votare una marea di provvedimenti nostri, quindi evidentemente forse dobbiamo comunicare meglio, dobbiamo tornare in mezzo alle persone, quindi al netto dell'esigenza di tenere il distanziamento sociale, seguire le prescrizioni di sicurezza, io darò una mano ai nostri candidati nelle regioni, stiamo organizzando alcune tappe, quindi vi terrò aggiornata perché mi sembra doveroso rispondere alle persone per quanto di competenze, per quanto di possibile rispetto alla necessità di distanziamento sociale, anche a tutte quelle critiche che magari qualcuno ha fatto, a quei dubbi che vengono a chi sta da casa nei confronti della nostra azione di governo e anche e soprattutto per ascoltare quei suggerimenti e quelle richieste di miglioramento che ci sono sia per quanto riguarda la sanità nelle varie regioni sia per quanto riguarda l'azione di governo. Certo è che noi dobbiamo, come sapete io sto chiedendo a tempo un cambio di passo all'interno del governo perché secondo me la sfida epocale che abbiamo davanti sul recovery plan è una sfida importante, c'è un'esigenza di farsi rispettare come forza politica, c'è l'esigenza che il Movimento 5 Stelle torni a non farsi portavoce, portatore delle stanze dei cittadini e al contempo continui la battaglia contro quei poteri forti che spesso influenzano le dinamiche politiche e dobbiamo evitare che i malintenzionati mettano le mani su questo tesoretto di 209 miliardi che il Presidente del Consiglio Conte con un lavoro straordinario ha portato a casa per gli italiani, non per il Movimento 5 Stelle basta ma per gli italiani e credo che sia importante lavorare con fermezza. Lo dico perché spesso leggo bestiate, boiate, tutti i professori, io vedo la nostra Ministra Azzolina che è sotto attacco costante e credo che il Movimento 5 Stelle debba aiutarla perché lei da sola non può fare miracoli, ma non può fare miracoli neanche e per questo serve l'aiuto dei cittadini, dobbiamo tutti fare la nostra parte, dobbiamo tutti essere un po' più responsabili, tutti essere consapevoli che è una partita difficile. Io leggo critiche, astio nei suoi confronti, insulti, tra l'altro beceri, insulti di gente evidentemente ignorante, malafede, non lo so neanche come definirla, non trovo dei termini adeguati senza parolacce, però non leggo mai proposte, giustamente uno può dire è sbagliato, sbagli qua, non è che ti dicono proposte, criticano tutti, è vero che siamo il paese dei 60 milioni di cittadini della nazionale, ma qui si tratta ai nostri figli di un passaggio difficile, io vi vorrei ricordare che in tantissime parti del mondo hanno aperto le scuole richiuso, alcune neanche le hanno aperte, ci sono tantissimi, per esempio ho letto gli Stati Uniti, in Germania hanno chiuso centinaia di scuole, negli Stati Uniti dopo che le avevano appena aperte, negli Stati Uniti sono tornati tanti ragazzi a fare lo studio da remoto, che è un tema importante, motivo per il quale io insisto tantissimo sulla rete unica, fatta con intelligenza e non fatta portandoci a spasso dalle banche d'affari che vendono progetti che fanno incassare soldi solo a loro e non portano beneficio nel medio e lungo periodo, ma non vi voglio annoiare su temi scottanti o delicati, perché poi qualcuno si lamenta, quindi sto lontano dalle polemiche, voglio evitarle, spero che torni il buonsenso e la voglia di discutere nel merito delle proposte, nei ragionamenti, ma credetemi, Lucia in questo momento sta affrontando un tema complicatissimo, io le dico sempre quando sentiamo che non ti invidio per nulla al mondo, non vorrei mai essere nei tuoi panni, né perché da un lato non essere all'altezza, né essere competente, ma né per tutte le pressioni, gli astacchi, le lezioni che riceve, e credo che questo sia oggettivo, sia oggettivo anche per tutti i mesi che abbiamo affrontato, dove siamo stati massacrati per le scelte che abbiamo fatto, alcune giuste, alcune magari con degli errori durante questo periodo, ma poi gli altri paesi dicono, ma l'Italia è quella che dobbiamo prendere come esempio, allora forse dovremmo imparare ad amarci di più, io ho sentito in via call alcuni autorevoli rappresentanti istituzionali stranieri che mi dicevano, sa del nostro paese quando succede un problema che potrebbe buttare cattiva luce al nostro paese, evitiamo che venga raccontato, sono stati dei giornali che sono stati attaccati da azioni negli scorsi mesi di violenza e nessuno l'ha raccontato perché altrimenti c'è un racconto negativo del paese, invece noi spesso leggiamo un'informazione che parla solo di cose brutte, quindi credo che davvero sia necessario affrontare con serietà, serve chiaramente avere una linea unica, un'informazione chiara, voi avete visto che anche i virologi ogni giorno, ognuno ha la sua idea, forse dovremmo trovare anche lì un po' più di attenzione, i virologi quelli veri, non parlo dei virologi da tastiera che oggi sono virologi, qualche settimana fa erano esperti di esplosivi quando c'è stato il problema in Libia, in Libano, poi adesso faranno un tweet, ecco Buffagna ha citato la Libia, la Libia abbiamo altri tipi di problemi, quindi i tutologi secondo me fanno male, quindi la scuola è un tema per noi importante, noi qua al MISE stiamo lavorando in accordo anche col MIUR per fare in modo che gli istituti, gli ITS e questi istituti di specializzazione vengano migliorati, venga implementato le dotazioni per loro, venga magari cambiato anche il nome, venga creata più occupazione perché sono questi istituti dopo il diploma che permettono di formare del personale rispetto alle esigenze che le singole imprese di territorio hanno, in modo tale che riusciamo a fare matching tra posti di lavoro e formazione, formiamo i nostri ragazzi dopo il diploma per andare nei posti di lavoro che direttamente servono, quindi con un accordo aziende, istituzioni e soprattutto parte di istruzione per riuscire a favorire gli inserimenti ai lavoratori. Chiudo però ricordandovi che del movimento sicuramente ne parleremo, sto riflettendo, sto ragionando con voi, sto parlando con tanti di voi in privato, tanti si lamentano non ci rispondi, ma ci mandate 800 mail, noi abbiamo anche oggettivamente impossibilità, poi io sono diventato cieco, neanche leggo, cerchiamo di rispondere tutto, motivo per il quale spero di tornare presto in mezzo alle persone con distanziamento sociale, nelle varie regioni stiamo organizzando nei miei territori dove ci sono i candidati consiglieri comunali, i candidati sindaci per parlare con le persone perché è la cosa che preferisco, mi è capitato anche in queste settimane in cui sono riuscito a staccare con la famiglia che tante persone ci fermavano, mi fermavano, mi chiedevano spiegazioni e quando tu gli spieghi le motivazioni che stanno dietro a una scelta, come mai è stata fatta una cosa, come è stata fatta un'altra cosa, gli racconti la verità dei fatti, le persone dicono, ma io avevo letto diversamente, i giornali dicono questo, ecco non dimentichiamoci mai che abbiamo un grosso problema di informazioni in questo paese, prima di salutarvi e ricordarvi il tema del votare sì al referendum e il perché, vi racconto questa piccola stupidatina che mi è successa, ho fatto un intervento su quello che ritengo sia una soluzione importante per la rete unica, per garantire la fibra ottica in tutto il paese, ma al netto di questo il giorno dopo un autorevole giornale di questo paese ha fatto un articolo nel quale mi insultava, diceva degli epiteti negativi, io ho cercato di capire chi era il nome del giornalista e in verità si erano firmati con uno pseudonimo, quindi la redazione economica di questo giornale si era fermata con uno pseudonimo, quindi ti insultano, non giudicano quello che hai detto, giudicano l'idea che hanno di te e non si firmano, non si assumono neanche la responsabilità di quello che dicono, questo mi ha fatto un po' arrabbiare, sapete che poi io sono anche un po' fumantino, mi vedete quando vado in televisione, sono tranquillo, poi ogni tanto ballo la gamba perché vorrei esplodere, mi sono controllato, alla fine questi giornalisti mi hanno chiesto scusa, hanno detto, sa noi però avevamo un motivo, ovviamente poi per me con le scuse è passata lì perché siamo abituati a riceverne di ogni, però questo esempio stupido era solo per farvi capire come in questo paese forse ciascuno di noi, compresa l'informazione, dovrebbe tornare a fare la sua parte, dovrebbe tornare un po' a raccontare la verità, perché alla fine avete visto il successo con Priatore, sfortuna, gli auguro di guarire, ma bravo il nostro sindaco di Arzachena che ha preso provvedimenti seri nell'interesse e nella tutela della salute dei cittadini, bravissimo, così si fa, con serietà, contro tutto e tutti, poi i fatti ti danno ragione, come con serietà e con fermezza dobbiamo gestire il problema dei migranti, perché è evidente che va gestito con fermezza, perché se da un lato chiediamo restrizioni ai cittadini non è che dall'altra possiamo permettere di far arrivare come chiunque, lo stiamo facendo senza show, con grande serietà, con un lavoro serio della Ministra Lamorgese, nel rispetto della Costituzione, nel rispetto della vita umana, ma evitando appunto di creare ulteriori problemi e anche lì avete letto grandi polemiche, grandi speculazioni e poi alla fine spesso è colpa nostra se il virus non riusciamo ancora a debellarlo completamente, perché ci sentiamo un po' leggeri, anch'io qui ho la mia bella mascherina, quindi quando esco dall'ufficio avrò la mia bella mascherina, è chiaro che non aiuta, non è il massimo, però ci sono delle regole, lo facciamo per noi stessi, lo facciamo per i nostri carichi, lo facciamo per gli anziani, lo facciamo perché dobbiamo battere questo virus invisibile, ma come Italia, non come Stefano Buffagni, come 5 Stelle, come vatte la pesca, come italiani, lo dobbiamo ai nostri concittadini, lo dobbiamo alle persone più deboli. Vi saluto, ci aggiorneremo presto, vi ho annoiato un po', vi chiedo scusa, ma mi sembrava doveroso dare segnali di vita, visto che sono qua in questo mio ufficio e mi sembrava doveroso dare un aggiornamento, un po' di caos ce l'abbiamo, un po' di casini ce li abbiamo e vi saluto facendovi vedere un libro che mi ha regalato un nostro collega parlamentare che si chiama Le leggi fondamentali della stupidità umana, non volevo fare, voi lo vedete al contrario perché so che forse lo vedete al contrario, però è un bel libro, mi ha regalato il Presidente della Commissione Agricoltura Gallinella, non l'ho ancora letto, ho letto soltanto la prefazione, però la frase questa è bellissima, la persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista, noi siamo nati come cittadini informati, noi dobbiamo continuare su quel solco come cittadini informati che evitano strumentalizzazioni polemiche inutili, che si informano per essere i responsabili del nostro metro quadrato, secondo me il Movimento 5 Stelle su quello può fare la differenza, deve sicuramente avere un momento di confronto, di rilancio, troveremo le modalità, si troveranno, io sono sempre ottimista perché oggi abbiamo una sfida che è nell'interesse del Paese ed è prioritaria rispetto a tutti. Buona serata a tutti, un abbraccio e ci aggiorniamo presto.